Andare dall'estetista dopo il lockdown da coronavirus è un'esperienza nuova. Se la pulizia era un dovere anche prima della pandemia, adesso lo è ancora di più. Sanificazione ed igienizzazione sono le nuove parole d'ordine, assieme alla prenotazione obbligatoria. Ci vogliono 10 minuti in più per ogni cliente, perché ad ogni cambio cabina si passa il vaporetto. Affidatevi a noi, dice al TG Max Anna Maria Carboni, della Venus di Paglieta. Tutte pronte, anche le mie colleghe, per la maggior parte non tutte abbiamo sanificato, non era obbligatorio, ma per stare sicura la sanificazione è importantissima, soprattutto poi fatta da aziende che stiano sul mercato già da tempo e non si siano inventate all'ultimo minuto, per cui professionisti. Sarà più difficile a dire quello che dobbiamo fare piuttosto che quello che dobbiamo fare realmente. Per cui l'unica cosa che la cliente deve fare è venire con la mascherina, con i guanti e avvertirci prima. Appuntamenti solo per telefono. Ovviamente ci sono i dispositivi. Quando arriverete dovrete lasciare le scarpe all'entrata, poi a seconda di come sia organizzata la vostra estetista, troverete un tappetino monouso, piuttosto che una scarpiera. Dovrete indossare o il copriscappa, nel caso delle cere, oppure potreste mettere questi ciabattini che sono sanificati, use e getta, per cui dipende molto anche dalla vostra estetista. Noi mettiamo sempre a disposizione la mascherina, però ricordatevi di arrivare con la mascherina non sotto al naso, ma sopra al naso. Guanti e gel. Per noi che lavoriamo in Val di Sangro, per cui un nucleo industriale, mettiamo a disposizione anche degli sanificatori per gli indumenti, per chi esce dal lavoro. Mi raccomando, quando venite vi seguiremo passo passo, non vi preoccupate, non vi agitate, ci saremo noi a fare tutto quanto.